È una partita importante, ormai io penso che ci aspettano 14 finali e dobbiamo affrontarle tutte col giusto piglio che si chiama Casarano, si chiama Bitonto, si chiama Cerignola, poco deve interessare. La stessa partita del mattino è sintomatica di quelli che sono gli avversari, di quelli che può essere gli avversari che incontreremo di qui alla fine. Non ci sono squadre che si danno per vinte, tutte lottano e se non si affrontano con la giusta determinazione si rischia poi di incappare in una giornata storta e anche laddove poi si vuole provare a riadrizzarla e a metter su una partita diventa difficile, quindi è importantissimo entrare nel campo determinati e con la giusta cattiveria. Del Casarano è una squadra che si trova in questa situazione di casclifica, però sicuramente è una squadra che è stata allestita per far bene, ha incontrato sicuramente delle difficoltà all'inizio, però con l'arrivo di Monticciolo esprime anche un buon calcio e senza ombra di dubbio risalì la racchina.